L'ispirazione ci proviene dalla bellezza. È la bellezza, l'impulso creativo che ci consente di creare i nostri album, oggetti di design nati per contenere le straordinarie immagini del fotografo professionista. E' insieme a queste fotografie che ogni singolo album realizzato a mano in un pezzo unico si fonde per creare uno straordinario oggetto d'arte, irripetibile, irrinunciabile, indimenticabile. Ogni singolo album è un progetto che nasce da un team dove le esperienze si integrano per curare ogni singolo dettaglio. Ora voglio mostrarvi come. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.